Ancona angolana comincia con una buona notizia di quelle che fanno bene al mondo del calcio, ma allo sport tutto in generale. Da oggi niente più reti di protezione in curva nord al Del Conero e quindi migliore visibilità, ma soprattutto meno divisioni tra campo e spalti. Brava, sosteniamo l'Ancona che ha fatto la proposta, ottima scelta dei vertici dorici, quella di accettarla. E se i tifosi biancorossi daranno prova di maturità, chissà, forse in seguito potrebbero essere tolti anche i vetri perimetrali. Magari fosse A contro A, Ancona angolana, super testa coda al Del Conero tra la prima della classe e la penultima del torneo. A prima vista non ci sarebbe partita, se non fosse però che i dorici hanno iniziato il 2014 senza gol e di conseguenza senza vittorie. Cornacchini non ammette scuse, oggi si deve vincere e basta, anche perché questa è la prima di un trittico di partite in cui si deve cercare il pieno per volare definitivamente e lasciare le briciole alle inseguitrici. A tal proposito il trainer dorico cambia l'undici iniziale. A far compagnia in avanti a Bondi ci saranno al centro pazzi alla ricerca del primo urrà in maglia biancorossa e a destra morbidelli all'esordio da titolare. Di Ceglie vince il ballottaggio con D'Alessandro a centrocampo. L'angolana che sta 31 punti sotto i dorici in settimana ha brindato alla sua prima vittoria in campionato battendo il povero ed erelitto Boiano per 7 a 0 ed è l'unica squadra insieme al Termoli contro cui l'Ancona non ha vinto in trasferta. Assente di Camillo tra gli ospiti, in campo l'argentino Mendoza. Vediamo insieme com'è andata quindi davvero tra Ancona e Angolana. Pronti, partenza e via e come spesso succede quest'anno l'Ancona si fa quasi gol da sola. Vespa prende palla a metà campo e serve in area Gian Sante che calcia ed evita l'intervento di Lory. Palla che rotola l'MLM in rete. Sembra poterci arrivare Barillaro e invece non fa altro che deviare nella sua stessa rete. Ancona a 0, Renato Curi Angolana a 1, Johnny Gian Sante. E sono passati solo 4 minuti. E infatti il bello viene adesso. Ci mette un po' l'Ancona a riprendersi. Ci vuole pazienza per rimettere nei giusti binari partita come queste, dirà poi Cornacchini negli spogliatoi. E infatti dopo una punizione di Morbidelli alta sopra la traversa, a rendersi pericolose di nuovo la RCA con un insidioso bolide di Lib Alizadeh, respinto a guantoni aperti da Lory. Un minuto dopo reazione d'Orica con un tiraccio dal limite di Bondi, Angelozzi si accartoccia e sventa. Insiste l'Ancona da corner, testa di Pazzi sul primo palo. Angelozzi è di nuovo attento e reattivo, ma l'estremo ospite non può nulla. Quattro minuti dopo, quando esce fuori dai suoi pali per neutralizzare un traversone di Biso, il cuoio però capita a Fagiuolo per il sinistro di Morbidelli, che non ci pensa su due volte e scaraventa in rete il pallonetto del pareggio d'Orico. Ancona 1, Renato Curi-Angolana 1, Alessandro Morbidelli. Bel gol, complimenti. Dopo il pareggio è solo Ancona che nei restanti 20 minuti del primo tempo seppellisce gli ospiti sotto altri tre gol. Trentatresimo, Didio riceve palla sulla sinistra, nessuno lo affronta, fa tre passi, si coordina e lascia partire un destro a pelo d'erba che fa secco Angelozzi. Ancona 2, Renato Curi-Angolana 1, un altro Alessandro. Didio questa volta, primo gol per lui in maglia bianco-rossa, uno dei migliori under del campionato. Sette minuti ancora e l'Ancona-Fatris, Mendoza affossa pazzi in area di rigore. L'arbitro Rognoni di Arcoriva assegna il penalti a Dorici, trasformato con freddezza da Capitan Biso. Ancona 3, Renato Curi-Angolana 1, Mattia Biso. E per non farsi mancare proprio nulla, l'Ancona chiude il tempo e il match al 45esimo con Pazzi, che servito in profondità da Bambozzi, disegna una traiettoria chirurgica che infila Angelozzi. Ancona 4, Renato Curi-Angolana 1, Cristian Pazzi. Anche per lui primo gol in maglia bianco-rossa. Finisce così la prima frazione di gioco, Ancona 4, RCA 1. Con il risultato acquisito il match va in ghiacciaia e la ripresa come poteva essere, quasi Accademia, con l'Ancona in possesso palla e senza troppa volontà di affondare. E gli avversari che di tanto in tanto si affacciano dalle parti di Lory, senza peraltro arrivarci mai. Solo Bambozzi e più tardi il neoentrato Pazzi creano qualche gratta capo ad Angelozzi, costretto ad uscire dal campo per infortunio alla spalla al 38esimo, in bocca al lupo. Finisce così, Ancona 4, RCA 1. Non c'è stata partita, per la verità ce n'è stata metà, il primo tempo, ripresa non pervenuta. Ma non c'è stata partita perché troppa disparità c'era in campo tra le due squadre. L'Ancona coglie la prima vittoria del 2014, segna un poker, si fa gol quasi da sola ed è sempre prima in classifica e guarda al futuro. Domenica derby al polisportivo di Civitanova, dove Cornachini, Pazzi, Mallus, Biso e Fabi Cannella torneranno da ex. Per la Renato Curi non era certo questo il match della vita. Orbene per 25 minuti poteva anche diventarlo, ma in fondo anche alla vigilia gli ospiti non si erano fatti troppe illusioni. Valga ciò che disse mister Donatelli qualche giorno fa a proposito di questa sfida che egli immaginava e descriveva con una divertente metafora marinara. L'Ancona ha una corazzata, noi un pedalò.